Dottore, Angela Gotelli, una donna alla Costituente, è doveroso ricordarlo? Io penso di sì, infatti abbiamo realizzato questa manifestazione proprio per ricordarla, anche se è stata spesso ricordata, perché lei è nata al Barretto, ma una spezzina, l'ha ricordata molto bene sempre l'onorevole Banti, ma anche il dottor Carlo Bellotti. Noi, il Movimento Partigiani Cristiani, insieme alle Acri e al CIF, Centro Italiano Femminile, la vogliamo ricordare, a varie esiligure, Angela Gotelli è stata una donna molto preziosa, una cattolica coerente, che ha sempre portato avanti i principi cristiani in tutta la sua attività, sia in tutta la vita. All'inizio si dedicò al campo studentesco, agli universitari, organizzò la FUCI e la Federazione Universitaria Cattolica durante il fascismo, che non era facile. Diciamo che potremmo dire che aveva delle idee innovative per il tempo. Sì, aveva dei donati, specialmente nel riguardo dell'emancipazione della donna, che incominciò dalle organizzazioni della FUCI per portare avanti nella sua storia di parlamentare. Lei poi dopo è eletta membro dell'Assemblea Costituente, anche lì perché era molto preparata, fece parte della commissione dei 75, che furono quelli che scrissero la prima stesura della Costituzione. Noi, partigiani cristiani, la ricordiamo perché lei ebbe un'attività nella guerra di liberazione. Diciamo che allora è doveroso ricordarla. Sabato 30 luglio, alle ore 17, nella strada del Consiglio Comunale di Varese, si svolgerà a questo convegno una donna alla Costituente.